Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. L'emittente televisiva La7 ha recentemente trasmesso un video in cui Matteo Bassetti appare visibilmente provato. Nelle immagini, l'infettivologo mostra un occhio notevolmente nero, suscitando domande sulla natura dell'accaduto. Considerando la persistente attenzione negativa da parte dei cosiddetti Novaks nei confronti di Matteo Bassetti, si è immediatamente pensato a qualcosa di sinistro. Tuttavia, la verità è che Bassetti non è stato vittima di un attacco intenzionale. Piuttosto, è stato colpito accidentalmente durante una partita di Paddle, un episodio che ha portato all'evidente contusione. Va notato che, in passato, l'infettivologo è stato oggetto di critiche e insulti da parte dei Novaks. Rispondendo a un post sui social, Bassetti ha condiviso il suo stato dicendo, che bello sentire che c'è tanta gente che mi vuole bene. Ha spiegato che l'infortunio è avvenuto durante una partita di Paddle e ha sottolineato che la stragrande maggioranza delle persone gli ha augurato una pronta guarigione. Le parole di Bassetti sono diventate virali in rete e sono state riportate dai media di tutto il paese. In questo momento, auguriamo al professor Bassetti una rapida guarigione.